Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Yeah He's hiding near me Wait, wait, this is all full-ass three man bro. I'm fucking dead bro. I'm pretty sure crypto's near me So crypto crypto This guy's checking my dough No, there's a guy there's a crypto near me invisible. I think I can scan him. Hold on. Oh my god This guy just knows he's underneath. Yeah, what the fuck you? How's he down there? Wait He's right here. I hear the thing. Wait, that is me. He's just sitting here. Well, I think he's just sitting here Wait, that's just actually crazy Let me see He was actually just sitting there That's why I wanted to make something content of the video Ahhhh That's so scary I can't understand You're so crazy Eisson 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 Siamo in una cura di video per il nostro canale. Noi n'o piaccato. Oso è io. Cosa! Cosa! Siamo in una cura! Cosa c'è cazare? Cosa 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 cazare? Sì, sì! il suo giusto 1841 1112 il 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 Sì Sì c'è il giusto, c'è il giusto, c'è il giusto. Sì c'è il giusto, c'è il giusto, è un giusto, c'è il giusto. Noi poterò! Ok, ok, ok! Uuua! Tutto! Tutto! Oh, ma non è vero! Ah, Kimbo, con so... Ah, che va, che vuoi! Ah, che vuoi? Che vuoi, non è vero. E? Eh, ma è vero. Sui come, come ti ho troppo, Ma è vero, ma è vero. Ma è vero. Ma è vero. Ma è vero, ma è vero. Ma è vero. Ma è vero. C'è il problema con la scuola? C'è il problema? Ha 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 ha! È vero! È vero! È vero, è vero, è vero! È vero, è vero, è vero! Sì 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 UUUUUUUUUUUUUU RIMING LOUD! FUCK YOU! Hits here a little bit of that winning moment and see how it transpired for Hockies and Alliance Ok? Shoot them up! Yes, crack them! Come on, come on! Last one inside! Two guys, two guys! Yes, dead! Let's go! One more, one more, I can't... I norte a hill!! tok 그렇죠! Ok 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 Mehichai Dump Xia onlar Dump Xia? Isabellaオテあの衣服とたぶん 4 of them are on match point and Blacklist International are sending it over onto Gaming Gladiators and they get the first knock! Blacklist International will take down GG and a reminder that if Blacklist win this game we will go to a game 14! Alliance though, this is their chance, this is their opportunity as they sweep in, they wrap in behind The spray coming in from Effect is devastating as he takes down 2 members That's two members of Blacklist as Alliance look to close this thing out against them and get these 3 kills and ensure we have a winner here in match 13 Dead! We're going one more! We're going one more! He was riding me in the corner! He was riding me in the corner! Falcons are dead! LG gonna be dead! We go one more! We got another game! いい飯が落ちる前に食えばずっと腹減った状態で食えるから え? 最強なんだよね? 今戻ってきたんですけど… 何言ってんすか? www え?分かる?理論? 喉で止めると思うんすか? 俺の胃に飯が落ちる前に 全て食い切れば…素早く まだ胃に飯は落ちてないから 全部食い切れんだよ ああ、はいはいはいはい 食運、食運、出まるぜ… 仲間もあるから気を付けてね Sì la non ma la le s i s 7 si si Sì Lasso un' Kauf Toch ecco Fiii Popierà Soro 쨍